Ciao Sergio, ciao Gianni, ciao ragazzi, ciao Gianni, ciao, 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 Comandante Luca, ciao, ciao, il mio amico Potta Potta è qua, ciao Francesco, grande, con la bottiglia dell'acqua no perché, potta potta, a posto siamo, ciao ragazzi, evviva hobby fishing, siamo qui dal porto di Savona, una bella compagnia, stiamo andando a pescare, sentite le trombe, sempre con Carson, hobby fishing, la grande, vi saluto ragazzi, ci vediamo più tardi con qualche bella cattura, ciao, ciao, vai Gio, vai Gio, Gio 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 Abbiamo calato, vediamo un attimo quanto ci mettiamo. Guarda, ce l'ho già mangiato, eccolo qua, è già in canna ragazzi, il pesce è già in canna. Ragazzi, ci sono passati massimo due minuti, eccoci qua, uno l'abbiamo preso subito. Ecco fatto.